E quindi salve a tutti! Salve 4.7 e c'è un impostore tra di noi! Siamo su su Among Us andiamo qua che abbiamo le nostre task Facciamo questa task che dovevamo mettere tre ossa, reperti, robe, fossili e quant'altro dentro Vabbè mi sono iniziato il fixed wiring da giù Hello Louis, ma vabbè Facciamo questo P3 Cessur Andiamo quello di sotto Ok andiamo ora qua, possiamo fissare Fili Fili Ah Mero è morto Fili 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 che ero in hallway perché è vero Fili 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 L'unico è da solo è Lime ma non voglio ucciderlo devo comunque sfruttarlo per poter poter far il rosso non voglio ucciderlo però mi sa che vincolo aia però ho ucciso il rosso ok niente lasciamo perdere anzi no rimaniamo sempre su questa mano non ci siamo impostori iniziamo male io ci ho voglia di buttarlo fuori chi se ne frega big news il giallo sospetta il giallo allora cerchiamo di non uccidere nel giallo nel giallo nel ciano mi si era rotto il gioco che si è rotto il giallo si è rotto il giallo che si è rotto il giallo vabbè andiamo qua in alto continuiamo ad andare avanti ok il vero dove ho spuntato non lo so 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 avrei dovuto fare il contrario dice che era fuori communication non è vero poi in questo mappo non c'è mai un communication allora crede che sia il giallo o io io uccido il nero al momento schippiamo e lui mi dice no e vota ok io uccido il nero io uccido il nero è io uccido il nero e io voto l'anne l'impostura vinto io volevo provare a uccidere il nero e te l'ha lasciato il gioco vediamo che muta il video e credo che questa partita me la faccio per un conto mio quindi anzi sono crewmate quindi proviamo un pochino ecco stando che sono innocenti se muoio semplicemente semplicemente mi sto il video questo è bello come tusk water plants facciamo rinascere queste belle pianticine ho votato a caso e se non erro il rosa mi ha pure visto fare sub nitscana tu adesso ho notato launch pod randia neostics ok l'ossigeno ok abbiamo vinto chi era? comunque questo primo video di among us può anche essere tutto noi ci vediamo in un prossimo fantastico video ciao 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 ciao